smettere di fumare non è stato facile nello stesso ambiente in cui si fa qualcosa si è portati a continuare a fare quel qualcosa quindi dovevo stare fuori casa il più possibile per cui cinema, teatro, stare sui mezzi pubblici mi sono iscritta in palestra, non mi ero mai iscritta prima e quindi cambiando radicalmente le abitudini intanto a livello psicologico ci si guadagna e quindi anche l'allontanamento dalle sigarette che nel primo periodo io le sognavo anche di notte da quel momento ho cercato di avere più precauzioni per esempio contro le malattie di raffreddamento evitare il contagio se per quanto possibile cerco di vivere al positivo di fare quello che riesco a fare e anche sto cercando di impegnarmi nel camminare cerco di evitare il peggioramento quindi se salgo su un mezzo pubblico dove aprono i finestrini vado davanti cerco di avere che ci sia magari pazienza se il finestrino dall'altro lato è aperto ma il mio cerco di chiuderlo in modo tale che gli altri sono dietro e io non sono in mezzo al corrente d'aria se c'è qualcuno che fuma mi allontano insomma ho una vita molto molto ridimensionata e poi sempre se lei pensa che anche a vestirmi duro fatica cioè io che in cinque minuti mi vestivo mi preparavo, andavo già fuori adesso è tutto appoggersi sul letto mettersi i pantaloni prendere fiato ricominciare se si arriva in tempo penso che ho visto che si può si può stare benino fare anche dei piccoli progetti delle cose, corsi, studiare fare un corso di doratura di sartoria cioè degli hobby avere degli hobby però anche la volontaria perché no però non posso uscire la sera cioè anche se mi accompagnano non posso seguire una persona che ha bisogno ho bisogno io a mia volta per cui è un discorso proprio tagliato fuori se non usa l'ossigeno una già è libera e se lo prende in tempo non è legata all'ossigeno che questo ossigeno è veramente in questo momento non ce l'ho perché ho fatto il puffo perché se no io ho sempre il mio cagnolino dietro per me salire le scale è un problema quindi quando io abito al terzo piano e quando si rompe l'ascensore insomma soffro un pochino e poi a me danno fa sicuro tutte le situazioni di caldo eccessivo o di freddo eccessivo quindi io mi regolo quindi io mi regolo limitando un po' la mia vita cioè io per esempio luglio e agosto non faccio mai i programmi perché so che devo fare una vita molto tranquilla quindi anche la spesa la vado a fare presto o tardi insomma ho adattato un po' diciamo la mia vita a quelle che sono le mie esigenze magari quando prendo l'autobus piuttosto che prenderlo da sotto prendo quello che mi lascia sopra così mi faccio la riscesa piuttosto che la salita i miei problemi li avrei lo stesso senza la PCO in un certo senso mi ha richiesto più sacrifici e alcune rinunce ad esempio una delle rinunce che mi è pesata molto 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 è stata quella rinuncia alle sigarette grazie a tutti